Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Dio della pace e del perdono, tu ci hai dato in Santa Liduina. Un esempio di grande coraggio. Sopportò con pazienza per tutta la vita le infermità del corpo. Offrendo il proprio dolore per la salvezza degli altri. Concedi anche a noi. Per sua intercessione di trovare grazia davanti a te. Perché possiamo condividere fino in fondo, il calice della tua volontà. E vivere un servizio reciproco. Generoso e fecondo. Fa, o Signore. Che anche noi. Ad esempio di Santa Liduina. Possiamo testimoniare al mondo. Che tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità. Di giustizia e di pace. Questo noi chiediamo a te. Gesù. Figlio di Maria. Che ci hai rivelato il Padre e inviato lo Spirito. Tu che sei il Cristo. Il Signore della nostra vita. Nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Santa Liduina. Pregate per noi.